Al via il tavolo sul programma, fico dai partiti disponibilità a sintesi, si parte con i capi gruppo, domani il presidente della Camera al Colle. Zingaretti, Premier e Gualtieri, punti fermi, ora confronto M5S, avanti col Premier Renzi, spero nasca governo dei meritevoli. Salvini, ridare parola agli elettori, meloni, no esecutivi di Unità Nazionale, Forza Italia, trattative a ribasso ai danni del paese. Quasi tutta Italia in zona gialla, il rischio degli assembramenti, scuola, alle superiori si torna in aula, piano vaccini, vertice governo regioni. Colpo di Stato in Miammar, i militari arrestano Aung San Suu Kyi e proclamano lo Stato di emergenza, la leader democratica al popolo, ribellatevi. Ponte Morandi a Genova è il secondo incidente probatorio sulle cause del crollo, presenti anche i familiari delle vittime. Sci, brutte notizie per Sofia Goggia, la campionessa azzurra tradita dalla caduta in pista a Garmisch, ginocchio destro fratturato, era tra le favorite per una medaglia d'oro ai mondiali di Cortina. Buongiorno dal Tg1 Alvia a Montecitorio.